Buonasera, ben trovati con lo spazio informativo del pomeriggio. In primo piano un brutto episodio di cronaca che si è verificato nella zona di Campo di Marte ad Arezzo, in particolare in questo servizio di Barbara Perissi. Rapina un 72enne del portafoglio davanti all'ospedale, arrestato dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito in una nota, dai militari l'uomo era in compagnia della moglie e stava passeggiando nei pressi del parcheggio coperto di Vialaschi, quando è stato aggredito alle spalle, picchiato e derubato del portafoglio. La coppia, seppur sotto sciocca, ha immediatamente chiesto aiuto ai passanti che hanno chiamato il 112. La centrale operativa ha inviato sul posto diverse pattuglie che hanno avviato le ricerche del sospetto. Grazie alle precise descrizioni fornite dalle vittime, i carabinieri del radiomobile sono riusciti ad individuare l'autore della rapina nel giro di pochi minuti. Il sospettato, uno straniero irregolare, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato trovato in via Masaccio all'ingresso del parco Pionta. Alla vista dei carabinieri è scappato, ma è stato raggiunto e bloccato non senza fatica a causa della sua resistenza. L'arrestato, che si era già disfatto della refurtiva in carcere in attesa dell'udienza di convalida, dovrà rispondere di rapina aggravata e resistenza pubblico ufficiale. La vittima, sebbene ancora scossa dall'accaduto, non ha riportato ferite fisiche ed è stata confortata dai militari. Nell'occasione i due coniugi hanno espresso sentimenti di stima e apprezzamento per l'operato dei carabinieri che continuano le indagini per accertare se l'arrestato possa essere coinvolto in altri episodi simili avvenuti recentemente nella stessa zona. E proseguiamo con la cronaca. Aggredisce il padre arrestato dai carabinieri accaduto a Castiglion Fiorettino. I carabinieri, per come spiegano in una nota, sono intervenuti dopo una segnalazione per bloccare un 48enne per maltrattamenti in famiglia. Nel particolare, come spiegato, l'uomo in preda ad uno stato di agitazione psicofisica dovuto all'abuso probabilmente di sostanze alcoliche, stava maltrattando il padre quando è stato interrotto dai militari che lo hanno arrestato, sequestrandogli una sciabola a doppia lama rinvenuta nelle disponibilità dell'aggressore. L'uomo è in carcere in questo momento a Sollicciano. Derubato del motorino si rivolge ai carabinieri che grazie alle telecamere hanno risolto il caso e il servizio. Gli rubano l'unico mezzo che ha per andare al lavoro, ovvero un motorino. Si rivolge disperato ai carabinieri che ritrovano il ciclomotore e denunciano una persona. È accaduto a Sansepolcro. Stando a quanto spiegato dai militari in una nota, dall'esame delle telecamere è emerso che un uomo di statura e di corporatura non comuni ha forzato il bloccasterzo del veicolo e probabilmente utilizzando un bypass elettronico è riuscito ad avviare il motore per poi avviarsi verso una strada che non è tra le più trafficate della zona. La testimonianza di una donna che ha visto passare l'uomo con un motorino che solitamente non guidava è stata determinante per ritrovare il ciclomotore nel suo garage. Il telaio era stato completamente abraso, cancellato, ma i dettagli acquisiti dall'arma in fase di denuncia sono stati fondamentali perché proprio alcuni di quei dettagli hanno permesso di riconoscere con certezza il veicolo rubato. Alcuni pezzi erano già mancanti e ciò che resta del mezzo è stato sequestrato e messo a disposizione della magistratura retina. L'uomo, un 25enne italiano, hanno anch'esso biturgenze, come la vittima del furto, è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio. Gli rubano il motorino, questo l'abbiamo già definito il discorso, dunque passiamo ad altro, ovvero alla pagina politica. Dopo i risultati iniziate le manovre per la composizione delle varie giunte e a Cortona, in attesa del ballottaggio, Andrea Vignini ha già fatto delle anticipazioni. L'altra faccia delle elezioni ci porta in dote la formazione dei vari governi. Cittadini i sindaci confermati hanno meno problemi rispetto ai neofiti che dovranno pesare con il bilancino le scelte derivate dalle singole competenze e dai numeri dei voti che i singoli consiglieri hanno preso. Un esempio clamoroso è quello di Davis Millighetti a Castiglion-Fiorentino. La sua dote elettorale è notevole, visto che ha preso il 10% dei voti di Libera Castiglioni, un risultato che ha dato a Mare Agnelli lascia passare per un tris clamoroso. Non gli è stata nemmeno Stefania Franceschini, sempre più nell'orbita di Fratelli d'Italia, dicono i ben informati. I due verranno confermati all'ombra del cassero a Foiano. Il successo di Jacopo Franci è stato premiato anche dal riscontro personale di Corei che ha messo a frutto l'esperienza accumulata in questi anni. Potrebbe essere lui il vice, anche se non è del scluder, che la scelta possa privilegiare una donna. Cortona, in vista del ballottaggio addirittura Andrea Vignini, ha annunciato che ha pronte due donne per la sua squadra futura di governo. Una sarà sicuramente Vanessa Bigliazzi, battagliera esponente del PD delle Chianacce, mentre l'altra potrebbe essere la capolista di Cortona Civica Gabrielli. Da verificare la squadra di San Giovanni Valdarno con la confermatissima Valentina Vadi, mentre a Marciano della Chiana sempre più marcato il materiarcato guidato da Maria De Palma, che detterà l'agenda per i prossimi cinque anni. Tutte da scoprire le squadre per Poppi e Prato Vecchio Stia, con i primi cittadini che hanno ribaltato il quadro politico preesistente. Torniamo alla cronaca. Trovata con la droga a 70 anni denunciata dai carabinieri, stando a quanto spiegato dai carabinieri di Foiano, sono state effettuate delle perquisizioni domiciliari a casa di una settantenne del luogo, già note le forze dell'ordine, ritrovando nella disponibilità della donna 10 grammi di ascisce e un bilancino di precisione. Un 45enne della zona è stato denunciato per spaccio e furto, stando a quanto è emerso durante le indagini si era introdotto in una abitazione e aveva rubato una bici del valore di oltre 7 mila euro. Gli infermieri di Opi e Arezzo hanno rivoluzionato l'assistenza territoriale grazie alle nuove opportunità della telemedicina e alla donazione del Rotary. Pazienti ed infermieri connessi ed integrati da oggi è possibile grazie a tablet e monitor donati dai distretti Rotary dell'area Etruria. Siamo primi in Italia quindi siamo solo all'inizio. Oggi Arezzo si porta bandiera di una innovazione in sanità che sarà il futuro. Il PNRR ce l'ha imposto, la pandemia altrettanto ha fatto capire che il territorio è un punto dove dovremo in qualche modo investire. In questa maniera grazie ai Rotary dell'area Etruria siamo riusciti ad investire su un'assistenza, un'assistenza domiciliare grazie agli infermieri di famiglia e comunità che arriveranno a casa delle famiglie e nel momento in cui viene trovata una cronicità da poter in qualche modo avere una consulenza specialistica da parte di uno specialista fanno immediatamente un passaggio con lo specialista che si trova nella centrale operativa. Ci piace pensare che il Rotary rispettando la sua missione di servire al di sopra di ogni interesse personale ma soprattutto di avere una visione di miglioramento della collettività possa essere anche precursore sulle nuove tecnologie. Quindi è un combinato questo meraviglioso dove da una parte c'è il rispetto e la voglia di fare per la collettività e dall'altra parte c'è anche il percorso innovativo su nuovi sistemi. La teleassistenza è un progetto su cui la ASLA Toscana Sud-Est sta investendo da qualche anno, adesso diventa sempre più un progetto concreto che aiuta il rapporto in questo caso tra personale di assistenza e persone che hanno bisogno di cura e di essere presi in carico e di sentirsi accompagnati. Lancia in aria un cucciolo di cane come fosse una palla e inveisce. Trentenne fermato e denunciato dagli agenti della Polizia Municipale di Arezzo è denunciato per maltrattamenti e abbandono di animali in ocche e resistenza. A pubblico ufficiale. Lancia in aria un cucciolo di cane come fosse una palla di inveisce. Trentenne fermato dagli agenti della Polizia Municipale di Arezzo è denunciato per maltrattamenti abbandono di animali, nonché resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto a Campo Marte, a segnalare il comportamento di un uomo, un trentenne di origine nigeriana, alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto è arrivato il nucleo specifico della municipale, voluto dall'assessore Giovanna Carlettini, ed ha bloccato l'uomo. Il cagnolino è stato affidato alle cure dell'EMPA. Ci avevamo visto giusto all'inizio del mandato, quando, grazie alla disponibilità del comandante Aldo Poponcini, abbiamo creato un nucleo specifico di agenti dedicati alla tutela e alla difesa degli animali, ha commentato l'assessore Carlettini. Anche in questo caso gli agenti hanno dimostrato la loro efficienza, sia salvando il cucciolo, sia placando i comportamenti poco ortodossi del protagonista della vicenda, che si rifiutava di salire in auto, persino di essere ammanettato. Ringrazio quindi il comandante Poponcini e i ragazzi in divisa per aver creduto in questo progetto e soprattutto invito i cittadini, conclude Carlettini, a rivolgersi loro ogni qualvolta si trovano dinnanzi ad un caso di maltrattamento. Troveranno ascolto ed un pronto intervento. Polemica a Sansepolcro per il taglio delle piante e arriva la replica del sindaco Innocenti. Cantiere di Porta Fiorentina dove continuano i lavori per la sistemazione di questa importante zona della città, con il sindaco Fabrizio Innocenti e con l'agronomo Moreno Moraldi, per fare anche un po' di chiarezza. Sindaco, è toccato a lei il compito di dover abbattere queste piante, perché? Infatti sarebbe con una battuta dire appunto è toccata a me e l'ho dovuto fare, perché se si pensa al futuro, se si pensa alla sicurezza dei cittadini, considerato che le piante sono in un contesto urbano, in un viale, in un parcheggio, non si può, non farà meno di fare queste verifiche, perché dopo la caduta della prima pianta a maggio del 2022, confrontandomi con il capo della manutenzione nostra, ci ha detto guarda che queste piante ce ne sono tante in queste condizioni. Abbiamo fatto un'altra perizia di un altro aeronomo e che ha confermato quelle che c'erano da battere. Devo dire che io sono il primo dispiaciuto come cittadino di Sansepolcro, però vi posso assicurare che ci sarà una ripiantumazione in autunno di 23 piante. Dal secondo controllo è venuta la conferma del pericolo, ma anche consistente, perché per la presenza di carie all'interno di molte piante sono state tutte confermate. Parlare di ripiantare dovremmo necessariamente aspettare l'autunno, perché durante l'estate non è assolutamente consigliabile mettere le piante. Andremo per far bene a novembre per delle piante in zolla o se forse riusciremo un po' prima, ma bisogna aspettare che cadano le foglie e le foglie cadono quando il clima è adatto, non lo decidiamo né io né il sindaco. Una caccia al tesoro per scoprire la ricchezza del genio del Vasari e le meraviglie custodite all'interno del Museo archeologico Mecenate di Arezzo. Per questa mostra è arrivato addirittura il direttore Caccio, una mostra importante, non sono solo cocci insomma. No, assolutamente, perché c'è dietro una storia molto ricca, molto importante, legata alle radici retine, alla storia retina antica e moderna, quindi un legame che mette in evidenza quanto la figura di Vasari per la città di Arezzo sia importante e questo noi lo svilupperemo anche nei musei, oltre al Mecenate oggi qui, anche negli altri musei retini statali, Casa Vasari, il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna che a seguire a settembre e ottobre avranno altre tappe di questo percorso dei 450 anni vasariani che porteranno poi alla grande mostra di ottobre, quindi abbiamo tante idee e tante cose da mostrare agli retini. È uno dei primi passi, è un passo significativo perché ci riporta all'origine del nome della famiglia di Vasari e dell'attività del nonno e di tutti coloro che prima di lui erano occupati di vasi, di vasi corallini in particolare. Tra l'altro la dottoressa Gatto che ringrazio particolarmente ci ha fatto un escursus su quella che è l'origine di questi vasi dove sono stati trovati certi reperti che oggi sono in fase di studio e di ricerca, quindi è una grande opportunità per i ricercatori di lavorare su materiale originale che è rimasto lì per cento anni, fanno parte della collezione di Gamurrini che sono stati messi a disposizione di nuovi ricercatori che su questo lavoreranno per riconoscerne l'origine molto probabilmente a retina e legata alla famiglia Vasari. Forse questo è anche nel DNA vasariano, l'uomo che in qualche maniera ha inventato la storia dell'arte nella sua stessa città ragomitola il filo che la porta dall'archeologia, dall'epoca romana se non addirittura etrusca se si pensa alla chimera che sarà in mostra fino al museo oro d'autore. Questo anno vasariano è un grande percorso, una caccia al tesoro alla scoperta delle bellezze di questa città. E chiudiamo ricordando gli appuntamenti di questa sera su Teletruria dopo il Tg delle 20 e 30 potrete assistere a Newsline dentro la notizia a cui fare seguito 9 e 10. La serata proseguirà con Pianeta Sanità in cui si parlerà di endoscopia digestiva e poi consueto appuntamento in compagnia di Alessio. Naturalmente vi ricordo i prossimi appuntamenti con informazioni a partire dalle 19 e 30 con il Tg Alto Tevere e poi alle 19 e 45 il Tg Vallate e naturalmente alle 20 e 30 il Tg Serale. Buonasera.